Non so, dico Raffaele Fitto, che cosa vi abbia detto di programmi di destra, sinceramente mi riesce difficile pensarlo. Ma per noi il percorso storico che ha fatto la destra è sempre un percorso di tradizione ma anche di innovazione, perché la destra è movimentista, la destra è visionaria, la destra è sociale, la destra è solidale, la destra è contro il capitale, a meno che non sia il capitale in funzione sociale, la destra è per venire incontro alle fasce deboli della popolazione, la destra è per l'unità nazionale e noi abbiamo avuto ministri per il mezzogiorno che al mezzogiorno non hanno pensato assolutamente, per esempio. Una conferenza stampa, quella convocata dalla senatrice Adriana Polibortone e dei vertici regionali di Fiamma Tricolore per presentare il candidato presidente di quello che ama definirsi partito di destra, eliminando del tutto la connotazione centrista. Sarà insomma il professor Pierfranco Bruni a cercare di entusiasmare l'elettorato che non si vede nelle correnti fittiane e con il suo aiuto diventare governatore di Puglia. A voi siete il reale centrodestra o un'alternativa al centrodestra? Siamo chiaramente un'alternativa al centro e a una destra un po' disarmonica, armonica nei suoi aspetti dei disvalori. Quindi rappresentiamo la destra, la destra sociale, la destra culturale, la destra che vuole investire nelle risorse umane e nelle risorse del territorio. Io credo che questa sia poi la distinzione fondamentale. Certamente non abbiamo sovranismi, non abbiamo realtà di confronto con altri aspetti e con altri valori. Partiamo da questo presupposto. La vera destra sociale e culturale è questa da me rappresentata in questa campagna elettorale.